Non è arrivata la conclusione che sarebbe il caso di ingaggiare quei teppisti. Beh, hai avuto quello che ti meritai. Cos'è lui? Passata una liscia dopo aver sopravo quella minorenna. Ti avverrai quando volo dire perdere. Forse noi non lo cambiamo mai riusciti, ma vedrai che tutto è possibile. Se l'avete detto che te l'avete fatto io. Non sarebbe più lavoro. 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 Qualcena la ricetta. Vediamo su questa ricetta. Un bambini! Un oltre il mondo. Deve luogo! Tecario! Grazie a tutti.